Grazie Giuseppe della tua partecipazione, prego, grazie a te. Giuseppe Pagnoli che è attualmente professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze all'Università di Modena e Reggio Emilia, laureato in Fisica, ha successivamente completato un dottorato di ricerca in Neuroscienze e ha lavorato per diversi anni negli Stati Uniti presso il Dipartimento di Psichiatria e Scienze Comportamentale della Emory University ad Atlanta. Ha condotto e collaborato a diversi studi di neuroimaging sui meccanismi di ricompensa, sull'interazione tra sistema unitario e funzione cerebrale, sulla cognizione sociale e sull'attività cerebrale intrinseca. Con l'interesse personale delle pratiche contemplative ha inoltre svolto ricerca sui correlati neurali e comportamentali della meditazione in sede e sui processi di regolazione volontaria dell'attenzione. Da qualche anno si interessa al quadro teorico dell'inferenza attiva che anche della sua applicazione è la comprensione dei processi che hanno luogo dell'esercizio benitativo. Bene, ora partiamo con la prima domanda che è uguale per tutti gli esperti intervistati, che è questa. Qual è il filo rosso, la domanda di fondo, che sin da quando eri ragazzo ti guida nella tua ricerca professionale e personale? Dunque, il filo rosso. Il filo rosso secondo me è una sorta di interesse che alcune persone hanno, forse tutti hanno, chi è in misura maggiore, chi è in misura minore, per qualcosa di sconosciuto. Forse per il mistero, in un certo senso. Allora, il mistero chiaramente si configura sotto diversi aspetti. Si può configurare come mistero religioso, mistero metafisico. In epoca moderna uno dei grossi misteri ovviamente è quello di come funziona il cervello e come questo possa essere legato alla nostra esperienza cosciente. Forse questo è il filo rosso. Secondo me, ancora prima, da bambino, di essere ovviamente di interessarmi alle neuroscienze, però forse questo era il filo rosso. Mi interessava l'ignoto in un certo senso, mi affascinava. Nelle neuroscienze ci sono arrivato quasi per caso, cioè non è mai un caso in realtà, ma diciamo che non era stato preventivato in anticipo. Io dopo aver fatto fisica volevo, in qualche modo volevo cambiare, in realtà mi ero un po' stancato del mondo accademico, cioè del mondo accademico da studente comunque, e quindi ero abbastanza incerto su cosa fare. Dopo un po' di decisione ero andato a svolgere un po' di lavoro, di volontariato nel Dipartimento di Scienze Biomediche qui a Modena, ma giusto per occupare un po' il tempo, perché finita la laurea non avevo ben chiaro cosa volessi fare, e a un certo punto mi è stata offerta, non essendoci al momento altra possibilità di guadagnare qualcosa, di entrare, di provare a entrare in un corso di dottorato in neuroscienze. Allora ho detto, ah, neuroscienze, molto interessante. E allora ho fatto un concorso, sono riuscito a entrare, e da lì poi è iniziata questa nuova fase, che probabilmente, come dici tu, gli interessi esistevano in nuce già da prima. Poi, quando ho fatto il dottorato in neuroscienze, a quell'epoca il dottorato era consorziato tra Modena e Parma, e gli studenti che venivano da Modena dovevano fare un anno a Parma. Quando io sono andato a Parma, in quel momento lì, ero l'unico con una laurea in fisica, c'era poca gente, eravamo in quattro dottorandi, ero l'unico con una laurea in fisica, e ho pensato di dedicarmi, di studiare le reti neurali artificiali. Però in quel momento lì, in quell'istituto, non c'era nessun professore che potesse farmi da tutor in questo campo, perché non studiavano esattamente quello. Allora mi sono messo un po' a studiare da solo, e lì mi è capitato, proprio tra le mani, e non mi ricordo neanche come, forse l'ho visto in una libreria, e ho iniziato a studiarlo avvidamente, il libro di Francisco Varela, che è poi diventato molto famoso, Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rose, che si chiama, in inglese, The Embodied Mind, ma in italiano mi sembra una via di mezzo alla conoscenza. Esatto. Francisco Varela, in questo libro, proponeva un programma, diciamo schizzava grandi tratti o spicava, un programma che lui chiamò neurofenomenologia, non credo che il termine sia suo, però lui lo utilizzò, in cui auspicava che ci fosse una comunicazione e un'ispirazione vicendevole tra quei campi o quelle tradizioni che avevano indagato l'esperienza cosciente in prima persona, e quindi lo indicava particolarmente, da un lato, le tradizioni contemplative di stampo buddista e dall'altro anche la tradizione fenomenologica di Husserl, Merleau-Ponty, eccetera, e invece le scienze, lui era, e Francisco Varela era un neurobiologo, dall'altro lato le scienze che avevano studiato la coscienza, o meglio il cervello, se vogliamo, in terza persona. Incontrando questo libro per me è stata un po' una folgorazione, perché da un lato avevo già incominciato un po' a interessarmi alla meditazione, dall'altro era uno di quei libri con una potenza di seduzione enorme, e se quelli che proprio ti fanno vedere le cose in un modo e tu dici io vorrei fare quello, allora se devo fare ricerca mi piacerebbe fare questo. E diciamo quello è stato il primo seme poi che mi ha portato a interessarmi anche dello studio della meditazione dal punto di vista scientifico. Potremmo dire che all'inizio hai cercato di esplorare il mistero dell'universo, di noi stessi, dell'esserci, di tutto questo, con la fisica. Quindi uno sguardo in terza persona sul mondo. Poi uno sguardo, altro step, sempre di conoscenza in terza persona, però del nostro sistema cognitivo partendo dal cervello. Poi tramite varera si è dato ulteriormente a ritroso, come una specie di atto meditativo, a dire ok ma c'è anche un'esperienza in prima persona. Quindi c'è come da un'estroversione iniziale a una progressione, introversione a un tentativo di dialogo tra le due. Sì, no, ti ringrazio per questa... Per questa che mi metti in una luce molto migliore di come in realtà sono andate le cose, ma ha senso, diciamo come spiegazione a posteriori. In realtà forse è stato così. A livello cosciente io mi ricordo che ho fatto fisica perché mi piaceva, avevo molta facilità all'epoca, oramai purtroppo non più, avevo molta facilità con la matematica e quindi ho detto ma facciamo fisica, mi sembra interessante, ma non è che fossi mosso proprio da una passione per diciamo lo studio del mondo in quel senso lì. E' vero che però dopo aver fatto già il secondo anno di fisica avevo incominciato ad avvertire un po' uno scollamento tra le nozioni matematiche barra astratte che si studiavano almeno nel corso di fisica non avanzato e diciamo la vita in un certo senso, l'esperienza della vita. E per cui mi sembrava che ci fosse, non so, l'avvertivo questa cosa in maniera disagevole. Tant'è che al secondo anno, dopo aver finito abbastanza rapidamente gli esami del primo e del secondo anno, ero un po' entrato in crisi, nel senso che ero andato a... forse devo fare qualche altra cosa perché non mi ha preso così come pensavo e sono andato a Padova alla facoltà di psicologia a sentire, a parlare con qualche professore per indirizzarmi i quali in genere mi hanno sconsigliato di cambiare. Addirittura uno psicologo a sperimentare, sono stati molto gentili, mi aveva detto ma no, ma cosa aveva sulla sua scrivania i tre classici della fisica che si studia all'università che sono le lezioni di Richard Feynman e allora diceva ma cosa vuoi cambiare? Io adesso sto studiando fisica, vedi? Insomma, a quel punto lì ho deciso di terminare fisica e poi sì, dopo sono emigrato nel campo delle neuroscienze ma mi sto riavvicinando adesso alla fisica perché effettivamente la cosa di cui sono più, che mi interessa di più adesso che appunto è questa teoria dell'inferenza attiva o del principio dell'energia libera è molto legata alla fisica. Purtroppo i neuroni non sono più quelli di quando avevo vent'anni per cui si fa fatica a riprendere. Comunque, adesso entriamo tante domande saranno sul modello di Freestone. Comunque il filo rosso spesso non si tira sempre a posteriore, ci si volta e si guarda un percorso che non esisteva che lo si è creato con i propri passi. È vero, è vero. Allora, quindi passiamo alla seconda domanda che già ci stavi accettando. Com'è il modello della mente predittiva? È il principio dell'energia libera di Carl Friston? E come sta rivoluzionando il modo delle neuroscienze cognitive considerando anche i possibili campi applicativi? Sì. Allora, in realtà il principio dell'energia libera su cui si basa la teoria dell'inferenza attiva non è strettamente la stessa cosa della codifica predittiva. Cioè la codifica predittiva era qualcosa già sviluppata prima secondo cui diciamo in campo neurale è stata sviluppata secondo cui sistemi neurali e gruppi di cellule in certi compiti agiscono proattivamente cercando di prevedere l'input che gli sta arrivando. Questo è anche dal punto di vista se vuoi psicologico. In realtà allora la teoria il principio dell'energia libera è in realtà proprio un principio cioè è anche una natura tautologica se vogliamo cioè invece di partire come si fa di solito dal punto di vista scientifico addirittura ingegneristico dalla domanda come deve essere fatto un sistema se vogliamo che sia un sistema simile al vivente cioè un sistema senziente come deve essere fatto? E allora uno dice ma provo a cambiare questo, provo a mettere questo modulo provo a fare a mettere un controllore una memoria eccetera eccetera in realtà il principio dell'energia libera rovescia un po' questa prospettiva dice se un sistema che si auto-organizza e in particolare il vivente è tale cioè si mantiene come una cosa che noi possiamo ravvisare come distinta da altre cose che caratteristiche deve avere e allora partendo da questa prospettiva noi possiamo dire in maniera come ho detto prima se vuoi tautologica che se un sistema deve esistere con una sua identità come qualcosa di distinto dalle altre cose cosa significa significa che i suoi stati oppure che il sistema occupa un insieme di stati ristretto non può occupare qualsiasi stato e quindi cambiare forma e cose occupa diciamo si configura in fisica si dice nello spazio degli stati occupa una zona ristretta dello spazio degli stati proprio per il fatto che ha una sua identità che è una cosa diversa da altre cose se è così cosa significa che il sistema per mantenersi vitale con una sua identità tautologicamente deve minimizzare l'eventualità di trovarsi in stati lontano diversi da quelli che costituiscono il suo fenotipo la sua struttura e funzione caratteristica minimizzare la probabilità di trovarsi in questi stati diversi da quelli che lo caratterizzano significa minimizzare l'eventualità di trovarsi in stati sorprendenti rispetto a ciò che il sistema è quindi quindi significa minimizzare la sorpresa sul lungo termine in media se il sistema si mantiene riesce a isolarsi dalla dissoluzione entropica per il tempo un certo tempo temporaneamente il tempo della sua esistenza vorrà dire che è riuscito a minimizzare l'eventualità di trovarsi in stati fuori da quelli che lo definiscono quindi sorprendenti per una certa estensione di tempo quindi da lì il problema è come fa un organismo a minimizzare un organismo un sistema a minimizzare la sorpresa ovviamente se parliamo di sorpresa sorpresa rispetto a che cosa rispetto a un modello generativo del mondo in cui vive il sistema il sistema può evitare di trovarsi in stati sorprendenti solo se riesce a prevedere a inferire il posto in cui sta e quindi minimizzare l'eventualità di trovarsi in un altro posto che lo porterebbe fuori dal suo stato che lo definisce quindi da lì il collegamento con la codifica predittiva se la sorpresa può essere solo riferita a un modello del mondo e poi dirò che l'organismo in realtà è un modello del mondo non è questa si diversifica dall'idea rappresentazionalistica classica che noi abbiamo delle rappresentazioni però ci deve essere poi un controllore centrale che gestisce queste rappresentazioni che era poi la critica anche di Varela in realtà questa visione è molto più simile all'idea di Varela dell'autopoiesi in cui il sistema praticamente tramite la sua interazione con il suo mondo con l'Humwelt in tedesco di Von Wexel con la sua nicchia ecologica agendo agendo nella sua nicchia ecologica per questo effetto di attrito costante viene levigato e scolpito dalle sue interazioni col mondo in maniera tale che la sua struttura e la dinamica dei suoi stati interni incominciano pian piano a rispecchiare le regolarità di catene causali di eventi che l'organismo o il sistema incontra nel suo ambiente è proprio un'azione di se vuoi di di eco di eco tra l'ambiente e il sistema questo può avvenire a diverse scale e avviene sempre minimizzando che cosa minimizzando la discrepanza tra ciò che il sistema si aspetta e ciò che il suo mondo gli risponde ok questo segnale che l'errore di previsione è l'unico segnale interessante perché l'unico segnale di apprendimento che permette allo stato interno del sistema di cambiare a diciamo in risposta all'ambiente in un certo senso si potrebbe dire che questa prospettiva a me piace particolarmente anche dal punto di vista filosofico perché mi sembra che si posizioni proprio a metà strada tra gli opposti del materialismo e dell'idealismo secondo secondo l'idealismo tutto il mondo è costruito dalla nostra coscienza secondo il materialismo no è il contrario c'è un mondo materiale fuori c'è una coscienza epifenomenica in questo caso è interessante perché secondo questa prospettiva quello che noi percepiamo del mondo è certamente percepito solo mediante le forme a priori che noi abbiamo un po' in senso kantiano cioè noi non possiamo avere un contatto diretto col mondo esterno c'è sempre il velo sensoriale possiamo solo inferire ciò che c'è nel mondo esterno sulla base di che cosa di due elementi gli stimoli che ci arrivano quelle sono le sensazioni prima di diventare percezioni ma poi la percezione è un processo a ritroso di andare dalle sensazioni alle cause nel mondo che le hanno generate quindi questo si può fare soltanto se noi abbiamo un modello interno di come le cause generano le sensazioni e lo invertiamo certo questo modello interno è costituito possiamo dire in senso lato da credenze o da a priori e allora è vero sì che noi possiamo percepire la realtà solo tramite le nostre credenze se vuoi quello che vediamo è soltanto una proiezione virtuale di ciò che c'è nella nostra mente perché è solo attraverso quelle forme ma quelle forme non sono libere di variare a caso sono state a loro volta scolpite dal e informate dal diciamo dagli stimoli che il mondo ci ha inviato quindi c'è una diciamo una circolazione di mutua influenza tra flusso entrante sensazioni e flusso scente azioni infatti noi sappiamo che la nostra l'azione è guidata percettivamente ma la percezione è guidata attivamente cioè le caratteristiche del vivente sono che non è un ricevatore un ricevitore passivo di segnali in realtà l'organismo vivente può riorientare i suoi recettori o le sue superfici sensoriali in maniera da dirigere attivamente il flusso entrante selezionarne solo una parte sulla base di che cosa ancora delle sue credenze a priori allora questo meccanismo che è un meccanismo matematicamente articolato secondo la statistica bayesiana in cui io inferisco qualcosa sulla base dell'evidenza sensoriale e delle credenze a priori è un po' la base anche del concetto dell'inferenza attiva Carl Friston parla sempre quando gli viene chiesto ma che cos'è questo principio dell'energia libera o dell'inferenza attiva che è così difficile da capire allora dice ci sono due strade volete che vada per la strada alta o per la strada bassa allora la strada alta è quella della fisica lui dice allora se noi consideriamo un sistema che si auto-organizza e quindi ha una sua identità deve minimizzare l'eventualità di stare in stati sorprendenti come fa deve avere un modello generativo del mondo e per minimizzare la sorpresa che non può minimizzare direttamente perché computazionalmente sarebbe un problema troppo intensivo perché bisognerebbe anche dal punto di vista matematico per se richiederebbe l'integrazione di un integrale multidimensionale senza una forma analitica chiusa ma dici come fa minimizza la sorpresa minimizzando questa quantità che è l'energia libera che è un concetto mutuato sia dalla statistica dalla meccanica statistica termodinamica sia dalla teoria dell'informazione si dimostra matematicamente che questa quantità è sempre maggiore uguale la sorpresa quindi se ed è una quantità diciamo tra virgolette calcolabile dal sistema quindi se il sistema riesce a procedere in maniera da minimizzare l'energia libera schiaccia giù anche la sorpresa e quindi minimizza anche la sorpresa ora si può questa energia libera con opportune approssimazioni si può sempre esprimere come una combinazione di errori di previsione e quindi da lì andiamo alla codifica predittiva l'altra strada è quella bayesiana ma poi alla fine le due coincidono cioè la strada bayesiana era quella che partiva partiamo da Kant Kant diceva che ci sono alcune categorie a priori secondo le quali noi percepiamo il mondo e quelle sono date e von Helmholtz si chiese ma come vengono formati questi a priori cioè è possibile che siano liberi di fluttuare ognuno può avere degli a priori diversi come possibile allora diceva no funziona così perché la nostra percezione è un'inferenza quindi noi facciamo un'ipotesi su ciò che sta generando le nostre sensazioni mettiamo alla prova questa ipotesi tramite l'interazione del mondo e tramite l'azione il mondo fa un reality check se vogliamo dirlo in inglese sulla nostra ipotesi se giusta cioè se non c'è discrepanza allora l'ipotesi viene mantenuta per buona se c'è discrepanza viene revisionata tramite che cosa? tramite il segnale di apprendimento costituito dall'errore di previsione questo schema bayesiano diciamo potrebbe essere in teoria implementato anche in sistemi passivi io faccio sempre l'esempio di un di questo diciamo di essere a casa da soli di notte e a un certo punto sentiamo un rumore e immediatamente nella nostra spazio mentale compare la domanda che cosa è stato? questa domanda esemplifica secondo me molto bene il processo di inferenziale cioè noi stiamo cercando di risalire dalla sensazione alle cause esterne che l'hanno generata possiamo avere varie ipotesi possiamo avere l'ipotesi che sia stato sia caduto un sasso sul lucernario del tetto possiamo avere l'ipotesi che qualcuno sta cercando di entrare dalla porta del retro ci sono varie ipotesi in competizione la credibilità di ciascuna ipotesi in competizione viene aggiornata man mano che arriva nuova evidenza sensoriale esattamente come avviene in un processo giuridico abbiamo degli imputati ogni volta che viene la giuria avrà dei suoi preconcetti dei suoi priori rispetto alla colpevolezza dell'uno o dell'altro ma man mano che vengono fornite nuove evidenze la credibilità tra i vari imputati viene ridistribuita questa credenza dopo nuova evidenza viene detta la probabilità o credenza a posteriori quindi tutta l'idea abesiana è praticamente quella di trovare un modo razionale di ridistribuire la credibilità tra varie ipotesi man mano che si riceve una nuova evidenza è un processo iterativo cioè dopo aver avuto nuova evidenza la nuova probabilità diventa la probabilità a priori su cui ci si basa al ciclo successivo ora questo non è necessariamente un processo attivo nel senso supponiamo facciamo ancora l'esempio di prima di essere seduti a casa di notte sentire questo rumore noi abbiamo possiamo essere influenzati diciamo da nel decidere la nostra diciamo nel dirimere queste tra queste due ipotesi possiamo essere influenzati da due cose uno quanto credibilità assegniamo prima di ricevere evidenza sensoriale all'una o l'altra ipotesi ad esempio se il vicino la mattina prima mi ha detto che sono entrati i ladri a casa sua io partirò già con una maggiore credibilità assegnata a quel tipo di evento questa viene chiamata in gergo la probabilità a priori di un'ipotesi ma c'è un'altra informazione importante che è quanto bene l'evidenza sensoriale combacia con quelle ipotesi cioè se il rumore che io ho udito sembra quello di uno che stia almanaccando cercando di scassinare la porta già aumenta ancora di più la credibilità che il suono sia dovuto a un ladro che sta cercando di entrare se invece è il rumore di magari di un vetro infranto io so che c'è un lucernario sopra allora diciamo l'ipotesi del sasso che cade sul tetto o del ramo che cade sul tetto risulta più plausibile ma dicevo questo processo non c'è niente di attivo finora quindi è un processo in cui semplicemente io cambio le mie ipotesi e quindi la mia percezione notare perché ciò che percepisco in questa teoria è ciò che corrisponde all'ipotesi che in quel momento ha la maggiore probabilità posteriore tra tutte quella diventa occupa il mio spazio mentale e io vedo quello ecco ma questo è un tipo di inferenza detta inferenza percettiva in cui l'azione non gioca ancora alcun ruolo quindi io potrei anche rimanere seduto lì incerto tra queste due ipotesi ed aspettare passivamente la prossima la prossima evidenza sensoriale che mi dia una qualche indicazione su come decidere fra queste due ipotesi e potrei aspettare un tempo molto lungo magari io aspetto se c'è qualche altro suono che mi indirizzi ma questo suono non viene non viene aspetto dieci minuti aspetto un'ora e rimango l'inchiodato ma gli organismi viventi hanno la possibilità come dicevo prima di ridirigere attivamente la propria percezione quindi io posso andare ad esempio se ho la all'inizio o appena assegnato un po' più di credibilità all'ipotesi del ladro posso decidere di andare attivamente a verificare se nella porta sul retro effettivamente ci siano segni di scasso quello fa fare un salto enorme alla capacità inferenziale del sistema questa capacità attiva è chiaro che questa capacità attiva diciamo si prevede che per tutta la durata del mio andare a verificare l'ipotesi deve essere mantenuta ferma quindi in un certo senso in alcuni casi si può parlare di una situazione simile a quella delle profezie che si autoavverano io ho una credenza forte e vado proprio a ricercare quella evidenza sensoriale che me la conferma ti fermo un attimo prego fermi pure perché sono andato avanti anche troppo questo lo riprendiamo per la quarta domanda sì perché in tutte le cose che hai detto hai già accennato a quella che era poi la terza domanda che era qual è il rapporto tra il modello di Freestone e il modello autopoietico e aggiungo un pezzetto nel modello autopoietico sì il mondo non è carico di informazioni in sé ma è l'auto organizzazione del sistema autopoietico che rende significativo una perturbazione dal punto di vista informativo di per sé prima di significato neutra certo ok la sensazione è io sono più esperto del modello autopoietico sì mi interessa moltissimo per questo stiamo facendo questa intervista capire cioè mi sembra che il modello di Freestone stia dando più completezza nel creare un continuo tra i fenomeni fisici chimici fino a quelli biologici cognitivi mettendo anche tutta la statistica o la matematica che mancava quindi tutte le ricadute applicative ma se volessimo fare una supersintesi se ho capito bene deve presupporre l'esistenza di un sistema complesso sì che ha una sua minima minima autoorganizzazione che esce da una dinamica puramente entropica non che la nega perché non è che è un miracolo ma semplicemente l'esternalizza e all'interno mantiene quindi la legge dell'entropia della termodinamica non viene scalfita semplicemente viene esternalizzata e al proprio interno c'è un mantenimento di questo ordine quello diventa allo stesso tempo sistema di memoria perché è minima quello che tu dicevi la memoria e di cognizione ma non di catturo come la telecamera di costruzione di un'informazione che poi il sistema per capire se è coerente la propria previsione come unica come unica come dire check al mantenimento della sua omeoresi più che omeostasi ok è corretto è questo in qualche modo allora secondo me io sono sono d'accordo e sono d'accordo nel senso che l'organizzazione interna dell'organismo che è praticamente quello che diciamo è la struttura che si autocrea nell'autopoiesi e che viene mantenuta non solo a fronte delle perturbazioni ma anche grazie alle perturbazioni e la è il fatto che per varela la cognizione si crea proprio in quei momenti di rottura dell'autopoiesi momentanea per cui dopo c'è il processo di accomodamento ed è questo processo di accomodamento che è un po' alla base della creazione del senso per me è estremamente simile se tu consideri l'autopoiesi questa struttura la chiami modello generativo interno è un modello che Jacob Howe un filosofo in australiano infatti ha parlato di questa minimizzazione dell'energia libera con un processo di self evidencing cioè se l'organismo non ha un modello ma è egli stesso un modello generativo del mondo la sua esistenza equivale al processo di cercare di trovare continuamente evidenza che lo confermi che confermi il modello generativo del mondo che lui è quindi secondo me questo dal punto di vista concettuale estremamente affine alla teoria dell'autopoiesi e anche lì la cognizione si crea per questo circolo di diciamo accomodamento dell'errore di previsione e c'è uguale attenzione alla circolarità sensori motoria certo molto più articolato dal punto di a mio parere dal punto di vista matematico però ti devo anche dire che uno degli autori di The Body In Mind Evan Thompson e lui non è d'accordo lui dice che le nazione diciamo nella sua forse la teoria più più diciamo il corollario dell'autopoiesi più vicino alla più più del campo della per quanto riguarda la cognizione comunque nell'ambito cognitivo ecco lui dice che in realtà non è vero che il principio dell'energia libera è una versione aggiornata dell'autopoiesi però io sinceramente non ho mai capito esattamente perché però hanno scritto insieme a Ezechiel Di Paolo e a Randall Beer forse hanno scritto un lavoro l'anno scorso in cui dettagliano diciamo le loro critiche dicendo che ci sono alcuni aspetti che sono critici che sono diversi tra i due teori io purtroppo non ho ancora un lavoro che mi ripormento sempre di leggere ma non ho ancora avuto tempo di leggere in dettaglio però sì c'è un po' questa questa diatriba tra chi pensa che l'energia libera sia una versione matematicamente più articolata in qualche modo che include l'autopoiesi e chi dice invece no o le nazioni c'è chi dice no io avevo parlato con Evan Thompson ma anche con Carl Freestone di questo lui mi ha detto che ma io ho avuto contatto con Francisco Varela perché in effetti queste teorie di Francisco Varela insomma sono di parecchi anni prima e lui mi ha detto io purtroppo non ho mai avuto contatti con Francisco Varela c'era uno studente un suo studente che è venuto a fare non mi ricordo se è un dottorato un postdoc o comunque un periodo qui da noi però poi sì non ho non ho avuto il piacere di conoscerlo e è un peccato io adesso cerco sempre di citarla la teoria dell'autopoiesi infatti nei primi lavori non c'era poi dopo invece adesso lui parla spesso di autopoiesi quando quando parla del principio dell'energia libera o dell'inferenza attiva e io credo che all'inizio veramente non ne fosse nemmeno a conoscenza cioè c'è arrivato per vie forse parallele però secondo me io sono raccordo con te sono sono punti di vista molto 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 affini poi magari ci sarà qualche aspetto in cui c'è una certa divergenza e magari dal punto di vista tecnico proprio per quanto riguarda il formalismo anche se il formalismo diciamo dell'autopoiesi non era stato almeno allora adesso non lo so non era stato così sviluppato era più era più una teoria molto generale e quindi il dialogo tra questi due approcci che partono cioè è ancora più interessante che Freestall non si fosse fondato sulla lettura già di questi modelli e che partendo da punti di vista diversi perché uno dei problemi secondo me della diffusione poi dei limiti di tutte le teorizzazioni infatti degli esseri umani del modello d'autopoietico che ancora nelle lauree in biologia e similari è sconosciuta incredibilmente infatti e invece ha delle grandi potenzialità e il dialogo appunto con questa nuova teoria c'è ci sono tutti i presupposti non perché bisogna credere nell'autopoiesi come una fede perché c'è l'intuizione che la direzione sia giusta sì perché è veramente controintuitivo questo discorso che l'informazione è costruita ovviamente non costruita in modo solipsistico certo cioè non esiste informazione nel vuoto non esiste informazione come dicevi tu è informazione solo per qualcosa o qualcuno cioè informazione se c'è la possibilità è informazione solo su uno sfondo non può essere informazione in astratto se no diventa nella teoria dell'informazione noi possiamo prendere un segnale e calcolarne l'entropia però c'è un segnale completamente casuale è entropia massima però cosa ci dice riguardo alla capacità un segnale a entropia zero che è l'opposto non ha nessuna informazione ma vedi è aprirori cioè è un automatismo che ha la nostra mente del senso della psicologia ingenua cioè come faccia già a essere un'informazione perché deve essere un'informazione questa penna che cade sul tavolo ma certo è un fenomeno fisico o chimico appunto ma non è ok invece c'è tutta questa teorizzazione dell'informazione no come se fosse vedi però effettivamente sono molto raccorro con te che se si si parte dalla dalla fisica alla fine ci sono delle energie in gioco esatto ci sono delle energie in gioco che che impattano che colpiscono cose che reagiscono a quell'impatto e in effetti questa visione è molto più vicino a quello molto più vicino tant'è che che sì Carl Fristona recentemente l'ha veramente generalizzata anche alle a qualsiasi entità che possa configurarsi come un'entità quindi anche a sistemi molecolari e certo dove siamo sistemi molecolari eh no ma cioè anche sì anche non vivente nel senso che quando c'è come dicevi tu una nicchia di ordine nel caos se se quella nicchia di ordine si mantiene nel tempo vuol dire che gioco forza gioco forza non è non è un'altra cosa è quella cosa lì e quindi quel sistema gioco forza deve minimizzare l'energia libera capisci che con questa ultima frase tu hai creato un concetto molto generale però c'è tutta la matematica dietro mi hai detto del confine tra vivente e non vivente è quella terra di mezzo che si cerca ora adesso non abbiamo tempo di approfondire ci sarebbe da fare una seconda intervista perché ho altre due domande da farti una è legata a se possiamo ipotizzare quali sono le principali cause di sofferenza psichica o quindi può essere sia della declinazione psicopatologica o comunque di biases tipiche di noi come specie in realtà qui noi come sistemi viventi quindi come sistemi autopoietici cognitivi poi se c'è qualcosa sul fatto di noi come ovo sapiens non lo so a partire appunto da queste teorie cioè tu a un certo punto hai parlato delle credenze cioè tutto legato anche molto al cognitivismo che lavora sulle credenze sui pregiudizi ma anche altri approcci terapeutici o probabilmente anche non terapeutici come la meditazione o altre pratiche ecco c'è qualche intuizione direzione di rotta applicativa in questo asico certamente allora permetto una cosa che quando io giusto per non confondere chi ci ascolta quando io parlo di credenze intendo qualcosa di molto molto di senso lato cioè non necessariamente le credenze psicologiche così come quando parlo di sorpresa non intendo necessariamente la sorpresa psicologica cioè in un caso la sorpresa infatti viene detta in inglese si preferisce usare il termine surprise invece di surprise perché significa semplicemente la discrepanza tra il segnale è previsto in base a un a priori ma che può essere di entità molto più bassa della diciamo del di un'aspettativa psicologica anche puramente fisica no? si si può essere ad esempio ti faccio un esempio molto semplice quando noi guidiamo impariamo a guidare la macchina è stato visto che quando impariamo a guidare la macchina gli occhi guidando su una strada anticipano guardano sempre un po' più in là di dove di dove ma quando siamo esperti guardano molto più in là cioè anticipano molto di più e in quel caso lì l'anticipazione è una cosa puramente di livello visivo anche abbastanza basso di cui non siamo assolutamente coscienti quindi quindi quando dico credenze si intendono in generale a priori cioè matematicamente densità di probabilità ma che non necessariamente di di ordine psicologico allora la risposta alla tua domanda è sì infatti c'è tutto un campo che si è aperto e che viene chiamato adesso viene chiamato è stato proposto questo termine di precision psychiatry che non c'entra con la precision medicine ma vuole mettere proprio l'accento sul fatto che molte patologie psichiatriche sono state in quest'ottica dell'inferenza attiva vengono viste come disturbi di stima del della precisione e che cos'è la precisione non abbiamo parlato prima la precisione è praticamente un'altra cosa che noi prevediamo riguardo all'affidabilità del segno dell'errore di previsione cioè noi possiamo avere possiamo prevedere non soltanto un segnale ma anche ci serve è fondamentale prevedere anche la sua attendibilità ad esempio noi che siamo animali prettamente visivi assegniamo stimiamo ci aspettiamo che il segnale visivo abbia un'elevata precisione e infatti tipicamente si dice non ci credo se non lo vedo è tipico perché perché se la risposta che ci viene del mondo alla nostra domanda inferenziale se questa risposta è rumorosa non ha senso utilizzarla per cambiare la mia ipotesi di partenza perché non è attendibile cioè se io devo capire dove devo andare e sono immerso facciamo così se io mi sveglio la mattina è ancora buio e devo accendere la luce non posso affidarmi al segnale visivo in quel caso perché tutto buio non mi dà nessuna informazione completamente inattendibile allora cosa devo fare devo fare più affidamento agli a priori cioè nella mia mappa mentale so che l'interruttore è qua a sinistra da qualche parte quindi tengo fermo la mia ipotesi il mio a priori su dov'è sopprimo qualsiasi segnale visivo non guardo più il mondo perché tanto non mi dà nessuna informazione e vado a tentoni fino a che non lo trovo a quel punto accendo la luce e immediatamente mi avvalgo dell'enorme precisione del segnale visivo adesso che ci luce la cosa interessante è questa tante cose sono interessanti ma una delle cose interessanti è questa che questo meccanismo di secondo cui nella gerarchia del modello generativo interno che va da livelli molto bassi vicino alle superfici sensoriali a livelli molto alti dove ci sono tutte le cose i nostri processi coscienti cognitivi eccetera memorie ecco cioè è importante l'organizzazione gerarchica che va un po' dai percetti ai concetti allora è cruciale la modulazione nei vari livelli della precisione attesa dei vari segnali di errori di previsione che si propagano dai livelli inferiori a quelli superiori perché modulando questo il sistema riesce effettivamente a minimizzare completamente l'energia libera in senso globale dicevo è interessante notare che in questa teoria il ruolo della modulazione della precisione è affidato a neurotrasmettitori modulatori tipo acetilcolina catecolamine eccetera che è a livello diciamo abbastanza alto viene identificato col processo cognitivo dell'attenzione quindi noi facendo attenzione a qualcosa in particolare amplifichiamo l'errore di previsione da quel canale lì perché sappiamo che quel canale lì contiene informazioni importanti quindi devo dargli più peso nella sua capacità di modificare le mie credenze è anche abbastanza intrigante il fatto che attendibile in italiano significa affidabile ed è legato all'attenzione attendibile attenzione ma anche affidabile quindi se un segnale è affidabile e noi lo stimiamo che si contenga informazione buona noi facciamo più attenzione a quel segnale allora questa è la nozione di precisione dicevo c'è un campo che si è aperto recentemente che vede molte patologie psichiatriche originare da stime aberranti di precisione e notiamo una cosa che stimare la precisione è un'operazione di un ordine di complessità maggiore che stimare l'entità di un segnale è un po' come dire stimare la media di un segnale è più facile rispetto a stimare nella deviazione standard la varianza la variabilità perché per stimare bene la variabilità c'è bisogno di più di più diciamo di avere esperito di aver ricevuto più dati questo sembra sia la ragione per cui molti disturbi psichiatrici se hanno una stima aberrante della precisione non sono così facili da cambiare quella stima una volta acquisita e per cui sono tutti abbastanza refrattari cioè non vengono curati in maniera molto facile perché appunto essendo la stima della precisione un processo di ordine più elevato e più come si dice ci mette più tempo a instaurarsi e una volta instaurata ci mette più tempo a essere cambiato quindi un esempio non so nell'autismo è stato proposto che i pazienti abbiano una una stima abnormalmente elevata dell'errore di previsione sensoriale e quindi si affidino nel loro tentativo di self-evidencing se vuoi cioè nel loro tentativo di autoconferma si affidino enormemente al dato sensoriale e di fatti li vediamo ricampionare ossessivamente il come si dice il sensorio e ora c'è un problema qual è il problema che moltissime situazioni hanno bisogno per essere interpretate in maniera efficace del ruolo degli a priori delle credenze ma se io se la sproporzione tra la precisione delle credenze la precisione del segnale sensoriale è tutta a favore del segnale sensoriale vuol dire che io non riesco più a fidarmi alle credenze pregresse queste però costituiscono uno sfondo ineludibile e del tutto essenziale per interpretare contesti ad esempio come la comunicazione interpersonale linguaggio ed è infatti tipicamente in questi ambiti che il paziente autistico ha i deficit più grossi molto interessante quindi ci possono essere patologie sbilanciate troppo sulla produzione e altre più simile magari alla psicopatologia troppo sbilanciate su delle credenze a priori esatto ok allora la cosa strana è che ad esempio nella schizofrenia nei sintomi positivi uno potrebbe dire e in effetti è stata avanzata questa proposta che sia esattamente il caso opposto in cui il paziente psicotico è guidato completamente da credenza a priori che hanno acquisito una precisione così elevata da essere completamente rifrattare da non ascoltare per niente il reality check la risposta che ti viene dal mondo che ti dice guarda che stai non combacia non torna la cosa diventano rifrattare e quindi seguono quelle però altri studi o altri ricercatori hanno proposto una versione diversa che in realtà queste persone abbiano una stima di precisione elevata anche sul segnale sensoriale e questo si diciamo si si evidenzia anche in alcuni contesti sperimentali in cui si è visto che i pazienti schizofrenici mostrano meno e sono meno soggetti a illusioni percettive in alcuni test specifici tipo illusioni visive tipo il classico Muller Leyer quella delle due delle due barrette con le frecce una messa così una messa cosa che sembrano diverse ecco e allora l'interpretazione qui che è stata data è che se c'è un'elevata aberrante precisione sul dato sensoriale però in maniera indiscriminata questo corrisponde a una situazione in cui tutto diventa saliente a qualsiasi cosa diventa saliente per cui se non so se la mattina uno ha parcheggiato poi anche nei disturbi ossessivi tu lo sai il tuo campo o paranoidi se è successo qualcosa viene subito interpretato in maniera ecco allora cosa succede se tutto diventa saliente qualsiasi cosa ha bisogno di essere accomodata e lì però il gioco è che probabilmente il paesaggio se vogliamo delle credenze di queste persone è probabilmente sbilanciato contiene alcuni alcuni picchi per cui queste tutte queste discrepanze che sono salienti vengono interpretate in maniera non diciamo come le interpreterebbe una persona diciamo neurotipica comunque ma c'è sempre la preferenza a venire interpretata secondo queste questo set di credenze che sono comunque diventate un po' inossidabili devo interrompere perché ogni domanda potrebbe essere una singola intesa se ce la facciamo ne abbiamo ancora due di domande una è questa se da questo modello del sistema vivente quindi sistema cognitivo e previsionale mi sembra che quello che si è verso è quello che dicevi tu cioè una certa forma una certa organizzazione del sistema vivente viene a coincidere con una certa capacità e modalità di rappresentare il mondo e se stesso in relazione col mondo quindi è la creazione del fenomeno identitario se dover arrivare all'identità psichica si può già partire dall'identità immunitaria fino ad andare ancora più indietro all'identità di un sistema non vivente ma però complesso e capace di sussistere nella sua organizzazione ok la domanda la penultima domanda è questa che ruolo gioca se lo gioca questo abito di ricerca sulla necessità che abbiamo noi come esseri umani quindi a una scala di complessità molto alta costantemente di cercare senso ovviamente a partire dalla nostra condizione di mortali e al fatto che esiste la sofferenza nella vita e che possono anche essere dal punto di vista di quel modello fosse vista come dissonanze rispetto alla previsione cioè questo ti sto chiedendo me ne rendo conto un salto molto alto no però secondo te è possibile usare come trigger di riflessione di intuizione sulla ricerca di senso questi modelli e che aiutano possono possono darci sui lati positivi e negativi della ricerca di senso domandina semplice domandina una domanda molto difficile perché qua si entra nel campo del del cioè del valore perché non si tratta semplicemente di di stabilire di stabilire come funzionano le cose ma si tratta di dare in qualche modo di entrare in un ambito normativo cioè di valore se ho capito bene aggiungo un elemento cioè nel momento in cui la mia forma la mia organizzazione è anche il modo in cui rappresento me stesso e la relazione col mondo e quindi il mondo stesso certo ogni essere vivente autopoietico è un esperimento non soltanto di capacità di sopravvivere e di rappresentare in modo coerente e funzionale il mondo ma anche di una visione del mondo è certo ok quindi comincia una specie di selezione naturale tra visioni del mondo e quindi anche di ricerca di senso sì quello quello sì e forse allora se vogliamo andare non so se ho capito esattamente però se io devo nel mio nella mia modus operandi di auto evidenziarmi che è l'unica cosa che posso fare se voglio mantenermi ecco però questa 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 organizzazione che mi caratterizza è solo un livello possiamo andare più in basso o più nel piccolo e quindi ciascuna delle parti che mi compone è essa stessa un sistema che cercherà di auto evidenziarsi di immunizzare l'energia libera quindi i miei organi le cellule eccetera ma possiamo andare anche nell'altro senso quindi nell'altro senso andiamo nel sociale ecco a quel punto se effettivamente c'è una forse ma qui sto proprio andando molto in maniera molto speculativa se c'è un'interazione efficace di individui che appartengono alla stessa nicchia e però anche la stessa cosa si può applicare in maniera se vuoi frattale a tante nicchie che stanno nello stesso pianeta ecco allora il gioco diventa quello che ciascuno di queste matriosche cercherà di minimizzare globalmente la sua energia libera questo però può essere fatto solo se c'è la possibilità di azione di ciascuno cioè se io come individuo capacità di azione ma se il sistema di io e altri individui che costituiamo un gruppo voglio armonizzare il sistema in maniera tale che questo sistema si mantenga nel tempo dovrò minimizzare l'energia globale ma questo lo posso fare efficacemente solo se a livello di gruppo posso da un lato agire sull'ambiente esterno dall'altro essere sensibile avere l'orecchio aperte a quello che l'ambiente esterno mi risponde indietro in realtà questa applicazione a vari livelli è stata anche formalizzata dal punto di vista matematico secondo un concetto che viene detto Markov-Blanket le coperte di Markov di cui Freestone però ha una versione un po' un po' diversa è un concetto statistico in cui un sistema diciamo comunica con l'esterno solo attraverso un'interfaccia e quindi gli stati interni non vengono influenzati direttamente dagli stati esterni ma solo dagli strati sensoriali presenti all'interfaccia e viceversa gli stati esterni non vengono influenzati da quelli interni ma solo vengono influenzati dagli stati attivi presenti di azione presenti sull'interfaccia ecco questa diciamo creazione di questa coperta di Marco avviene a tanti livelli quindi forse forse cercando di rispondere alla tua domanda ecco la creazione di un senso appartiene proprio a questa minimizzazione dell'energia libera o di auto-evidenza a livello più del sociale ok a livello di un'entità di un sistema che si auto-organizza che però ha un ambito ha un'estensione pertinente e multi-individuale penso potrebbe essere sì sì mi rendo conto che sto attaccato a un affreddo mi rendo conto che è una domanda limite e forse non sono riuscita neanche a porla bene nel senso che mi sembra un'interessante conferma partendo da un ambito più sperimentale scientifico anche poco di scienza dura che ci fa riflettere su la costante necessità di da un lato di equilibrio sull'orno del caos mi viene da dire tra l'eccesso di rigidità che non crea dinamica e l'eccesso di calore che distrugge crea relazioni mi sembra molto collegato appunto al pensiero complesso a questo abito qua ti faccio un'ultima domanda perché poi mi faccio prendere la mano e ci sarebbe da parlare tre ore perché sono bellissimi allora l'ultima domanda come la prima è uguale per tutti ed è questa per trovare migliori risposte dobbiamo prima porci migliori domande per porci migliori domande dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi e siamo ancora in tema quali domande suggeriresti di porsi a chiunque prima o poi della vita mamma mia un po' scomodo trovarsi nella posizione di dover consigliare a qualcuno le domande cruciali da porsi nella vita beh puoi donare una domanda agli altri che gli altri ma ok la mia domanda che non è una domanda però secondo me è il mantenersi il mantenersi curiosi cioè prestare cercare di ascoltare attentamente la risposta del mondo alle nostre domande che cambieranno nel corso della vita però ecco se ascoltiamo attentamente la risposta alle nostre distrazioni da parte del mondo ecco quello mi sembra secondo me un consiglio a volte è necessario certamente è necessario in alcune situazioni come l'esempio che facevo prima è necessario per un momento non ascoltare e andare in una certa direzione per non farsi distrarre però realizzare che questa momentanea volontaria cecità o sordità deve essere temporanea e diciamo specifica per quello scopo ecco allora che infine forse è un termine un po' riduttivo ma la resilienza la capacità di fluire con la complessità è proprio questa capacità di mantenere questo equilibrio tra una coerenza vedi no per esempio facevi l'esempio dello psicotico che non ha confini ha un io troppo fragile quindi come se avesse un sistema immunitario che non lo protegge no e dall'altra parte la curiosità la capacità invece di farsi stupire certo ricordo dell'intervista che avevi fatto con Roberto no che quando si riflettavate insieme sulle ricadute della pratica meditativa poi ognuno deve fare un check e dire ok ma io in queste situazioni tendo ad essere più sbilanciato sul versante proteggo la mia identità proteggo la mia visione le mie prassi o invece darò una direzione seguo qualsiasi cosa senza senza io penso che sia un'arte cioè è un'arte se vuoi dell'abilità di imparare a distribuire la precisione sui vari livelli cioè di uno della capacità di mantenersi fluidi due la capacità di riconoscere che comunque siamo sempre diciamo dipendenti dalla da ciò che abbiamo vissuto dalle nostre conoscenze e però la capacità di riconoscere che queste sono comunque provisionali sono temporanee provvisorie però questa ecco questa flessibilità secondo me è importante nel senso che ci sono situazioni che chiamano per una per una maggiore direzionalità indipendentemente da quello che ci sta dicendo il mondo e altri invece in cui bisogna proprio stare molto molto in ascolto per capire come sta girando la situazione e in un certo senso forse bisogna cioè bisogna forse è utile acquisire una specie di sguardo di livello un po' più elevato su tutti questi processi che comunque ci costituiscono e sono ineludibili però ecco se si riesce a prenderne in qualche modo coscienza penso possa essere proficuo io credo che se questo progetto con questo chiudiamo si chiama Being Sapiens c'è una battuta così che mi viene ritardo da dire non basta nascere o bimidi per essere sapiens e secondo me una delle vie per riuscire a realizzare la nostra natura sapiente è proprio quella che hai sintetizzato tu grazie grazie a te del tuo tempo della tua disponibilità e speriamo di rivederci presto benissimo grazie ancora grazie grazie a te grazie a te grazie a te